Torniamo in epoca classica. Siamo qui alla scogliera del mito. Qua infatti c'è la grotta delle tre colonne, la baia delle sirene e la baia della grotta di Rizzo. Siamo in questo posto meraviglioso pieno anche di leggende. Vero? Verissimo. Si narra che Ulisse fosse attratto dalla baia delle sirene perché sentisse il canto delle sirene. In realtà però c'è un professore di studi classici che afferma, o meglio ipotizza, che sirene vuol dire in greco api. Questo perché a mezzogiorno di ogni giorno c'è uno sciame di api, quindi sente questo rumore dello sciame di api. Quindi in realtà Ulisse era attratto non dalle sirene ma dal suono dello sciame di api, quindi è stato ingannato. E quindi niente, si è fatto legare all'albero per uno sciame di api. Le nostre sirene che invece sono qui e che invece si prendono l'acqua che non esce. Beccate, bravo. E noi gli abbiamo portato le sirene. Esatto, gli abbiamo portato le sirene che hanno bisogno di un po' di acqua. Scherzo perfetto. Beate voi ragazze.